Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ben ritrovati qui sui canali Giunti Scuola per un nuovo appuntamento con Didattica Live. Io sono Giovanni Donadelli e oggi approfondiremo insieme un nuovo capitolo importante, capitolo per la didattica della geografia. In particolare oggi ci soffermeremo su quello che è un'attività che facciamo fare spesso alle bambine e ai bambini delle nostre classi, ovvero quella della lettura delle immagini, l'uso delle fotografie per l'analisi del territorio ma anche degli ambienti, dei paesaggi eccetera. Perché l'uso dell'immagine è così importante in geografia? In geografia l'immagine è uno strumento utilissimo perché permette di in qualche modo cristallizzare, fissare, fermare un attimo il tempo in una certa porzione di sguardo e questa raccolta di possibili infiniti sguardi che sono poi le fotografie ma in un tempo erano le diapositive, le lastre fotografiche, anche gli stessi dipinti, gli stessi quadri erano in qualche modo, fungevano allo stesso modo. Cosa fanno? Non fanno altro che in qualche modo riprodurre, rappresentare un'immagine di quella che è la realtà che ci si pone davanti. La macchina fotografica riesce a in qualche modo fissare gli elementi che noi vediamo ma non è questo lo scopo ultimo della geografia, non è il descrivere solo gli elementi e visualizzare gli elementi nella loro disposizione. Questo è un primo passaggio fondamentale ma anche attraverso le attività di oggi cercheremo di renderci conto e magari di capire in che modo potremo anche con le nostre classi andare un po' oltre questa semplice lettura un po' denotativa di quelli che sono gli elementi presenti nel paesaggio. Lo facciamo a partire dal materiale del libro più della classe quarta che si apre proprio con questa grande domanda, questa domanda di apertura che cos'è la geografia. Non basterà la classe quarta per riuscire a rispondere in maniera esaustiva a questa domanda ma ci tenevo a partire da qui perché proprio nelle prime pagine del libro viene proposto tra le strategie per star bene, che sono questi box che ritornano nel libro come strumento anche di appoggio, un'attività di osservazione legata allo spirito di osservazione per cui attenzione come elemento cruciale che si può stimolare, si può allenare proprio attraverso l'osservazione degli spazi che noi abitiamo, che noi viviamo quotidianamente. Qui l'esempio è riferito alla camera da letto nell'osservazione che possiamo fare di questo luogo che conosciamo molto bene e ci dice fissiamolo, facciamolo fissare ai bambini e facciamo annotare loro tutte le cose che sono lì presenti e ogni volta che lo faremo questo esercizio ci farà notare come in realtà i dettagli sono talmente tanti che possiamo soffermarci ogni volta su dettagli diversi avendo quindi in qualche modo ogni volta una sorpresa. Questo capita nella nostra camera da letto, figuratevi nel momento in cui proponiamo questo esercizio in un contesto all'aria aperta e dove la complessità dell'attività dell'uomo appunto ha agito per millenni. Perché è interessante partire da qui? Partiamo da qui perché il primo livello di lettura proprio dell'immagine, di lettura della realtà prende spunto da qui, cioè dalla capacità di organizzare il nostro sguardo, di organizzarlo in modo tale da poter raccogliere delle informazioni attraverso la nostra osservazione. Questo tipo di esercizio che possiamo fare nella realtà appunto che viviamo con i bambini a scuola o adesso a casa, lo si può applicare anche alle immagini e quindi ecco che entra in gioco la fotografia. La fotografia, l'illustrazione è un elemento che i geografi sin dall'inizio, sin dalla scoperta della fotografia, dallo sviluppo della tecnica fotografica, utilizzano e viene utilizzata tuttora per fare analisi territoriale, analisi che nasce proprio dalla ricerca di quelli che sono gli elementi ma soprattutto le relazioni. Il passaggio fondamentale infatti che vogliamo fare e a cui vogliamo portare i nostri allievi e le nostre allieve è quello di partendo da un'immagine riuscire a comprendere dove si trova e quali sono gli elementi che la caratterizzano, ma soprattutto quale tipo di relazioni esistono tra questi elementi e il contesto in cui si sviluppano e questo come passaggio in realtà a sua volta, passaggio di partenza per arrivare poi a un obiettivo ancora superiore, ancora più lontano che è quello di riuscire a leggere attraverso l'immagine quello che può essere il cambiamento che quel territorio può vivere negli anni successivi, perché la geografia per noi, geografi, è sicuramente uno strumento per la comprensione del mondo, ma è altrettanto uno strumento per il cambiamento del mondo, cioè renderci noi in primis soggetti capaci di leggere la realtà per poter agire e migliorarla ovviamente per il meglio. Questo è un po' il quadro di riferimento in cui si inseriscono le nostre attività. A pagina 102 di Libro Più per la classe quarta viene proposta questa attività di lettura dell'immagine con domande e stimolo che chiaramente facilitano i nostri allievi nello svolgimento delle attività. Cosa vedi in primo piano, in secondo piano, quindi proprio una lettura di base dell'immagine? Quali sono gli elementi naturali di questo paesaggio? Questo è un riferimento che in classe quarta appunto ci torna molto utile, quindi quali sono invece le opere dell'uomo? E secondo te, com'era questo territorio in passato? Quali trasformazioni sono avvenute? Ecco, la dimensione ultima, la finalità ultima dell'attività di lettura deve mettere in gioco domande di questo tipo, come l'ultima che abbiamo trovato, perché è nei processi che poi la geografia sviluppa tutta la sua potenzialità e tutta la sua utilità. Allora, nel momento in cui proponiamo delle fotografie che siano storiche, che siano attuali, ricordiamoci sempre dell'importanza di partire sì da una lettura che ne dia un po' il quadro di comprensione generale, ma che ci porti appunto gli studenti e le studentesse a elaborare queste informazioni, a metterle in relazione tra loro e provare anche ad entrare all'interno di quel contesto. Utilizzare la fotografia come strumento di supporto all'immaginazione, nel senso di punto di partenza proprio per ragionare sulle progettualità e sugli scenari futuri. A questo fine la fotografia può avere davvero molti elementi di pregio e non è un caso, appunto ribadisco, che la fotografia in geografia viene utilizzata moltissimo, fotografia che oggi si è evoluta e che quindi include non solo gli sguardi, diciamo, di primo piano, di lungo piano e di tutte le prospettive anche verticali, come la fotografia aerea o oblique, appunto, ma include anche l'immagine satellitare, la foto interpretazione riprende proprio questa capacità di analizzare le immagini satellitari che presentano rappresentazioni davvero molto più, molto ricche e anche molto complesse. Io procedo nel, torno un attimo nel menu principale per arrivare a una pagina specifica che è pagina 118, dove si introducono le attività legate al clima, agli ambienti nel mondo in Europa, per sottolineare una cosa, la fotografia è sì utile ai processi, alla comprensione, alle relazioni, ma allo stesso modo è un grande innesco, un grande attivatore di motivazione, di coinvolgimento. Se vediamo le fotografie che sono qui proposte, è evidente come grazie a questi quattro riquadri i bambini e le bambine siano proiettati in scenari lontani, scenari affascinanti, interessanti, curiosi, ecco che il potere evocativo della fotografia anche nell'analisi territoriale è importante perché nel comprendere i motivi che hanno portato alla strutturazione dei contesti di vita in cui abitiamo, avere anche un impatto che ci permetta di proiettarci anche in maniera partecipata, coinvolgente emotiva, è fondamentale. In questo caso le immagini poi aiutano anche la descrizione come appunto ciò capita per contesti molto lontani che i bambini difficilmente avranno esperito in forma diretta. C'è un'altra cosa però che ci interessa molto sottolineare e che non emerge né qui né in queste successive immagini che sono legate più alla descrizione degli ambienti climatici che possiamo trovare nel mondo, che è l'immagine invece del punto di vista del fotografo, cosa che emerge solitamente di più nelle fotografie di contesto antropico. In questo è interessante analizzare, sotto questo aspetto è interessante analizzare altre fotografie come magari quella che viene proposta in questo laboratorio di base o le fotografie che vi mostrerò tra poco in un altro laboratorio. Perché dico questo? Dico questo perché lo sguardo di ciascuno di noi non è uno sguardo neutro, è uno sguardo che ha deciso di posarsi su una certa porzione di territorio, per cui ogni scatto fotografico è in qualche modo il risultato di una scelta del fotografo e il fatto che questo scatto sia finito nel libro e altri no è risultato anch'esso di una scelta, per cui le immagini che noi vediamo qui e che ci sono proposte nella nostra quotidianità, pensiamo solo alle campagne pubblicitarie, sono immagini studiate, immagini talvolta anche molto costruite, artificiali e non parlo di Photoshop, non parlo di photo editing, parlo proprio del fatto che ogni immagine veicola dei messaggi e noi dobbiamo essere molto consapevoli e dobbiamo guidare i nostri bambini e le nostre bambine a crescere nella consapevolezza che queste immagini hanno un potere evocativo forte. Per cui il messaggio che un'immagine come quella che vediamo di queste colline molto dolci che ci presentano l'attività dell'uomo nell'organizzazione e la coltivazione dei terreni nel pascolo, è un'immagine che ha proprio l'obiettivo didattico, in questo caso è evidente, di mostrare quelle che sono la formazione, non la formazione, ma la morfologia del terreno e lo sfruttamento da parte dell'uomo. Ad ogni modo, questo sguardo così di insieme è il risultato di una scelta. Allora, lavorare con i bambini sulle scelte che guidano il fotografo e che guidano anche noi come studenti è estremamente interessante, per cui quando ad esempio gli facciamo lavorare sui paesaggi e gli facciamo raccogliere delle fotografie o gli proponiamo delle fotografie, cerchiamo di utilizzare sempre questo ragionamento di metariflessione, perché permette loro di mettere in dubbio la veridicità delle immagini, ma soprattutto di questionare, di mettere in discussione quello che è una descrizione unica, una descrizione lineare, sempre logica, che talvolta in realtà la realtà non ci presenta e che è utile ai fini di semplificare, ma allo stesso tempo impoverisce e rende la geografia quella disciplina che poi è un po' l'elenco dell'ovvio. L'ovvio avviene nel momento in cui si prosegue, si continua in perterrito a semplificare, ridurre e semplificare andando ad escludere tutta quella che è la ricchezza e la varietà delle situazioni. A questo proposito io propongo un'attività di chiusura del nostro webinar che fa riferimento alla pagina del sussidiario che troviamo in fondo, ecco il laboratorio di base, siamo a pagina 172, sull'analisi del sistema territoriale. In particolare io riparto un po' da quello che è lo spirito di osservazione a partire dalle fotografie. Un riferimento tra l'altro curioso che prima non mi sono ricordato, di darvi è quello del lavoro sull'osservazione, il lavoro sullo stimolare i bambini nel ricordare i dettagli delle immagini come la cameretta ci suggeriva. In questo senso uno spunto utile può essere il romanzo di Radia Kipling che è Kim, proprio la storia di questo ragazzo irlandese indiano che vive appunto nell'India nel conflitto diciamo tra la potenza russa e inglese. È un romanzo per ragazzi che però ha dei punti molto molto interessanti dai quali nascono i famosi giochi di Kim, giochi di osservazione, giochi di memorizzazione della realtà intorno a noi. Quindi questo è un riferimento che può essere utile approfondire proprio per stimolare i bambini nell'osservazione. Tornando invece alla nostra attività, l'analisi territoriale ci richiede di leggere il territorio, quindi l'azione dell'uomo nello spazio che osserviamo. Per questo un'attività interessante può essere quella di ragionare su quali sono i motivi per cui l'uomo modifica il territorio in cui vive. L'attività per la classe è coinvolgere i bambini e le bambine su questa domanda, cioè perché l'uomo modifica il territorio? Perché lo ha fatto da sempre, da quando è stato in grado di farlo ha modificato il territorio? Chiediamo, lavoriamo magari in gruppi, in piccoli gruppi, chiediamo ai bambini e alle bambine di raccontare, di provare a riassumere per punti quali sono le motivazioni principali. Facciamo poi raccogliere sulla lavagna, alla lavagna con i post-it piuttosto che in una lavagna interattiva, quali sono gli elementi che secondo loro sono il motivo di questa azione. In una seconda fase chiediamo di riorganizzarli, cercando di dare senso e magari di aggregare quelli che sono simili tra loro, andando a dare dei titoli per i vari gruppetti. Per cui cerchiamo di capire quali sono le macro-categorie, le macro-motivazioni che ci inducono a modificare il territorio. Da questi gruppetti proviamo a individuarne tre, i più rilevanti. Solo a questo punto apriamo il libro più. A pagina 172 vediamo che i tre punti, le tre motivazioni, le tre categorie principali che vengono considerate qui nel libro sono le seguenti. Utilizzare le risorse naturali che l'ambiente offre, comunicare e spostarsi da un luogo all'altro, modificare ciò che può essere un pericolo. Siete d'accordo? Siamo d'accordo? Chiediamolo ai nostri studenti prima di iniziare a lavorare su questo, perché le categorie che ci dà il libro non sono per forza quelle che dobbiamo applicare, sono una guida. Allora, in questo modo apriamo un confronto anche libero, aperto, schietto con il libro, cercando proprio di trovare il senso. Una volta che lo avremo individuato le categorie, ecco che l'analisi delle immagini sarà molto più personale. Ricordiamoci infine, come vediamo anche nelle immagini che qua vengono proposte, di riflettere sulle considerazioni, quindi non solo individuare gli elementi, ma problematizzarli, cercare di comprendere le relazioni che questi hanno tra gli elementi tra di loro o con elementi che non ci sono, cercando sempre di aprire il più possibile il discorso e diversificare le scale di analisi. Le immagini delle cave, piuttosto che del passaggio della ferrovia o delle sistemi di protezione per il pericolo di frane, sono tre aspetti locali di tre contesti molto specifici che però si collegano ad altre realtà nel territorio, diciamo alla rete ferroviaria italiana e a tutti i paesaggi, i territori che collega e che attraversa. L'uso dell'immagine quindi non solo limitato all'analisi degli elementi, ma alla ricerca delle relazioni e soprattutto di un quadro molto più ampio in cui io come osservatore mi metto in relazione con il contesto presente per studiarne e progettarne nuovi futuri. Spero che questa riflessione e queste attività possano tornarvi utili e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie! 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 Grazie!